ben tornati ragazzi oggi nuova guida andremo a vedere come lanciare le granate su apex legend prima di tutto selezioniamole col tasto g perfetto adesso col mouse cliccate il tasto sinistro fuoco alle polveri fuoco alle polveri beccati una termite fuoco alle polveri granata termite lancio una stella arc stella arc lancio una stella arc granata frammentazione granata frammentazione 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 abbiamo lanciato le granate su apex leggenda lasciate un bel like ragazzi supportatevi ciao